La prossima volta dovete andare insieme ai ragazzi di seconda E nell'altra classe, dovete creare dei gruppi mischiati con loro perché anche loro stanno facendo la vostra stessa unità di apprendimento e incominciate a lavorare insieme sulla possibilità di fare un ebook multimediale finito dove tutte le materie devono andare a confondere insieme, quindi dovete andare con i ragazzi di seconda E, vi raccomando create dei gruppi misti, non seconda una è una parte, seconda è dall'altra, ma vi mischiate e interagite nel cloud con il materiale e se c'è necessità di parlarvi anche quando siete fuori dalla classe, vi trovate in messenger o in chat, come volete voi, dato che c'è la chat live sul wiki e create tutto quanto sul sito, tutti quanti insieme, come se foste un'unica classe. Grazie. 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 Grazie a tutti.